Sono arrivata tardi, sono arrivata per il finale del match, è un video! Il video non ci ti mette in foca, ah no, c'è il video no, ce la fai una con questa qua? È un video, è un video, saluto! Cos'era un faccio il tempo? C'è un video, assieme, sono arrivata, ma non ci mette in più, è un video, la c'è un video, per la visione dei Ghiro, la visione delle, la visione dei Ghiro, la visione dei Ghiro, la visione dei Ghiro, la visione dei Ghiro, la visione dei Ghiro. finora ti metto a fare l'arbitro? non è per me sai cosa penso anche? perdonatemi io penso che gli altri sono gli sfigati dallo sport no diglielo non glielo dico non voglio offendere nessuno ma il mio pensiero è questo sai perchè? vabbè sono gli sfigati dallo sport a mio avviso hanno cercato di fare qualche cosa in qualsiasi di caccia non ti farebbe non sono riusciti a farlo ma qualcuno gli dà la possibilità di diventare protagonisti assoluti dello sport che loro comunque amano e fanno gli ambiti di questi sport buoni manuti questo è un buon questo è il bracca è l'asperata va bene? non 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 ma non 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 se lo dai, ti dici, vai in sacra che li faccio attaccare in realtà la monomia è simpatica se canto di tanto, no possiamo andare al combattolo, diclammi lui, 2 minuti per il combattolo non è capito con il nostro corso non è capito non è capito Grazie a tutti